Fraschiati quartiere di Cocciano 10 novembre 2012 ore 20 ecco la strada che scorre con al lato gli uffici e il supermercato tutti i lampioni rigorosamente spenti l'unica luce che si vede sono i due fari di una macchina lì su in cima a questa strada e l'assessore cosa fa? e il sindaco che dice? continuano gli abbocchiamenti per il rimpasto in maggioranza ma qui non si vede ancora la luce